Salve a tutti ragazzi, vostro Lee, in questo nuovo video vedremo l'unboxing del BeQuiet Dark Rock Pro 2, un dissipatore per CPU a doppia torre. Il dissipatore è un omaggio della BeQuiet, che ringrazio. Trovate il link al sito giù in descrizione. Noi ci becchiamo tra poco con l'unboxing. Bene ragazzi, eccoci con la scatola contenente il dissipatore. Tutto intorno abbiamo come sempre varie immagini e informazioni. Ad esempio qui in alto possiamo vedere il logo LGA 2011, compatibile dunque con questo socket, mentre nella parte posteriore abbiamo una tabella con tutte le informazioni sul dissipatore e sulle ventole. Passiamo adesso all'unboxing. Vediamo il contenuto di questa prima scatola. In questa prima scatola troviamo Il libretto delle istruzioni per il montaggio E queste varie bustine, di cui adesso vedremo il contenuto. Contengono un backplate, una piccola siringa con un po' di pasta termica, le viti per avvitare le staffe al dissipatore, staffe per il socket 11,55 e 11,56, 13,66 e 7,75, AMD FM1, FM2, AM2, AM2, AM3, AM3+, 754, 939, 940, vari viti, agganci in plastica, staffe per il socket 2011, vari bulloni e una piccola chiamo inglese. Mettiamo adesso tutto da parte e passiamo al dissipatore. Sfiliamolo dalla scatola Mettiamola da parte E avvolto in due pezzi di polistirolo per protezione Uno E due Ed eccolo qui Vediamo alcune specifiche È un dissipatore doppia torre Altezza 166 mm Larghezza 138 mm Profondità 147 mm Peso 1,25 kg Il raffreddamento è affidato a due ventole Che raffreddano 7 heatpipes in rame placcate nickel da 6 mm La piastra superiore è in alluminio placcato nickel E al centro abbiamo il logo della Be Quiet Possiamo anche vedere 14 cappucci per le heatpipes Questo per dare maggiore eleganza e solidità al dissipatore L'eatsync, il corpo centrale, è composto da 44 alette in alluminio con placcatura in nickel scuro Abbiamo due ventole in push-pull Una centrale da 135 mm Ed una frontale da 120 mm Sono entrambe delle silent wing della Be Quiet Sono agganciate al dissipatore tramite due clip metalliche per ogni ventola Per rimuoverle basterà tirare queste clip Nella parte bassa possiamo vedere meglio le 7 heatpipes e la piastra di contatto con la CPU Presenta una lavorazione CNC lappata quasi a specchio Ed è in rame ricoperta in nickel Possiamo vedere tutto intorno, inoltre, i fori per il montaggio delle staffe Nella parte inferiore abbiamo anche i cavi di alimentazione per le ventole Sono entrambi a 4 pin, quindi con controllo della velocità in base alla temperatura del processore Possiamo inoltre collegarle entrambe tramite un unico pin Grazie allo splitter integrato nella ventola frontale Le palle della ventola hanno questo particolare design Che ne aumenta l'efficienza e ne diminuisce il rumore Tutto intorno al supporto Inoltre abbiamo questa bordatura gommata Sia nella parte superiore che nella parte posteriore Che permette di ridurre e di attutire le vibrazioni Per staccare la ventola dal dissipatore basterà tirare le clip metalliche Questo è qui di lato Cosa possiamo dire di questo dissipatore? È sicuramente molto performante Infatti con un i5-2500K overclockato a 4,5 GHz Le temperature si attestano poco sotto i 60 gradi Quindi temperature ottime e che lo classificano come uno dei migliori dissipatori ad aree esistenti Ci sono però un paio di aspetti negativi Bisogna avere un case piuttosto spazioso per contenerlo Ma non è un vero problema Dato che chi acquista questo dissipatore avrà sicuramente un case adatto allo scopo L'altro difetto riguarda l'alimentazione delle ventole Sarebbe stato meglio avere uno splitter al quale collegarle Invece che, come in questo caso, splittare il cavo di alimentazione della ventola frontale Oltre al dissipatore, la B-Quiet mi ha omaggiato con due ventole aggiuntive Una da 120 e una da 140 mm Il contenuto è lo stesso, cambia solo la dimensione della ventola La confezione può essere aperta al libro e all'interno troviamo Sulla destra la ventola e a sinistra varie informazioni Passiamo all'unboxing Mettiamo da parte la scatola All'interno troviamo la ventola Con connettore 3 pin La bordatura in gomma E lo stesso design di quelle del dissipatore Troviamo poi questo set di supporti per il montaggio 4 di questi supporti, per la precisione quelli inferiori, sono in plastica E sono utili se vogliamo montare la ventola sul dissipatore Mentre gli altri 4 sono in gomma E come potete vedere ci sono due lettere incise L ed S La differenza tra L ed S è molto semplice Se montiamo la ventola usando il lato S Essa andrà direttamente a contatto con il case Se invece montiamo la ventola usando il lato L Ci sarà un millimetro di spazio tra essa e il case Questo per evitare rumori dovuti alle vibrazioni Per montare questi 4 supporti basterà agganciarli ai 4 lati della ventola Questa qui è la corretta procedura di aggancio Si prende la ventola Qui in alto vedete c'è questo spazio Questo qui è il supporto Come vedete un lato ha questo piccolo taglietto Si infila qui dentro così Si preme Ecco qui E' stato inserito Sotto il contenitore dei supporti troviamo Il foglio con le istruzioni Uno splitter molex a tre vie Una a 5 Una a 7 E una a 12 volt La differenza sta nella velocità di rotazione delle ventole Collegandola a 5 volt infatti La ventola girerà più lentamente Sarà quindi più silenziosa Ma raffredderà di meno Collegandola invece a 12 volt Andrà alla massima velocità Dà doci il raffreddamento migliore Ma sarà più rumorosa Troviamo poi Due bustine con un set di viti Queste qui le viti in metallo vanno avvitate col cacciavite Sui supporti che abbiamo visto prima in plastica Mentre le viti in plastica vanno inserite Nei supporti in gomma E non c'è bisogno di alcun cacciavite Come suggerito dalla stessa Be Quiet Per acquistare in Italia questo dissipatore O le ventole O in generale qualsiasi prodotto Be Quiet Rivolgetevi a Draco.it Trovate il link al sito giù in descrizione Questo dissipatore in particolare Lo trovate ad un prezzo di circa 70 euro Bene ragazzi L'unboxing del Be Quiet Dark Rock Pro 2 Finisce qui Voglio ringraziare Be Quiet per il dissipatore Trovate il link al sito giù in descrizione Spero che il video vi sia piaciuto Spero sia stato utile Voglio ricordare che sul mio primo canale Lee Siu Long Potete trovare molti altri video tutorial E consigli utili sul mondo dell'informatica Mentre sul mio secondo canale The Lee Gamer Di cui potete trovare il link giù in descrizione Potete trovare molti gameplay commentati dal vostro Lee Mi raccomando Seguitemi anche su Twitter Sono YouTuber Lee Noi ci becchiamo ad un prossimo video Bye Bye Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti